E' una scuola tanto carina! 15 classi e una sola cucina! Vogliamo la nostra scuola! Perché investire negli istituti professionali è progettare il nostro futuro! La Costituzione ci riconosce il diritto allo studio e voi ce lo negate! Invenzione della Costituzione! La Costituzione è una scuola da salvaguardare! Liberiamo la scuola dalla burocrazia! Buongiorno, sono rappresentante istituto della scuola professionale Albreghiero. Oggi noi stiamo qui per farci ascoltare, per avere qualche spiegazione. Perché sono due anni che sono stati distanziati dei fondi che a noi servono. Perché? Il prossimo anno ci sono state quattro iscrizioni, quattro classi nuove, quindi tre prime alberghieri e uno normale professionale. E non abbiamo, abbiamo solo un laboratorio. Quindi cerchiamo in tutti i modi di farci sentire per aprire questa seconda cucina. Sono due anni che non ci danno i fondi e quindi stiamo qui per farci ascoltare. Questo appello a chi è rivolto? Chi è che deve sbloccare questi fondi? Perugia. Perugia? Sì. La provincia di Perugia, che ha i fondi, sono stati distanziati i soldi e sono due anni che non mandano giù per fare lavori. Ok, grazie. E oltre a questa giornata di protesta avete in programma altre? Sì, se non ci danno ascolto ogni quattro o cinque giorni consecutivi, insomma, faremo un'altra protesta. No dobbiamo fare questa cucina! No dobbiamo fare questa cucina! No dobbiamo fare questa cucina! Grazie, grazie, grazie.